Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale. Oggi vi consiglio quattro serie tv Rai da vedere gratuitamente quindi, senza pagare alcun abbonamento, e che vanno in onda alcune la mattina e altre il pomeriggio. Quindi iniziamo con la prima. La prima che vi consiglio va alle 7.40, va su Rai2, mi dicono che fa da diversi anni, ma ho iniziato a seguirla da ora. Dalle 7.40 alle 8.30 su Rai2 è una serie che si basa sui drammi familiari, sugli amori, sull'amicizia, ma anche molto sulle ambientazioni in natura e sui cavalli, perché pare che alcuni di questi personaggi vadano sui cavalli. Io la seguo già da un paio di settimane, mi sta piacendo particolarmente. Dovete avere l'abitudine di alzarvi a quell'ora, perché io per esempio generalmente capita di alzarmi intorno alle 9, insomma da dormire. Però per chi ha voglia, soprattutto nel periodo estivo, che si ha un po' più di tempo, può alzarsi alle 7.40 e seguire questa serie. Molto particolare e molto bella anche per chi ama la natura, i cavalli, perché ci sono molte ambientazioni in natura, e molte amicizie, amori, insomma è particolare. Mischia la natura con il dramma, ma anche un po' di leggerezza. Questa è la prima. La seconda che vi consiglio è Doc Martin, va su Rai 3, sempre da lunedì al venerdì, come la precedente, alle 11.15, fino alle 11.55. E tratta di questo dottore che vive in questa piccola cittadina della Germania e aiuta tutti i suoi abitanti a curarsi, dando delle prescrizioni mediche, insomma come un dottore normale. Però a questa serie si aggiungono moltissimi aspetti comici, perché la maggior parte dei personaggi che fanno parte di questa serie sono irriverenti, sono divertenti, quindi si mischia la medicina con la comicità, con la commedia, è bellissima. Doc Martin dalle 11.15 alle 11.55, da lunedì al venerdì su Rai 3. Terza serie tv gratuita da vedere sulle ritirai. Alle 18.30 su Rai 2 va Femme. È una sitcom super comica, ambientata in famiglia, cioè con una famiglia di persone che si scambiano delle battute, insomma è una sitcom. È divertentissima, è iniziata da poco su Rai 2 e assolutamente da non perdere. Va dalle 18.30 alle 18.50 su Rai 2, sempre da lunedì al venerdì, come le precedenti. Vi consiglio di vederla, se vogliete ovviamente anche qui rilassarvi, passare un po' di tempo davanti alle serie tv e divertirvi, perché in questo caso è una sitcom. Invece nel caso delle precedenti sono delle vere e proprie serie tv tematiche e appuntate. Questo è. Dalle 18.30 alle 18.50 su Rai 2, da lunedì al venerdì. Femme. Alle 18.50 invece, per chiudere la quarta ed ultima serie gratuita Rai che vi consiglio, è SWAT. Stanno andando le repliche della terza stagione. Stanno andando le repliche della terza stagione, dicevo. Alle 18.50 il pomeriggio. E per chi la segue da anni SWAT sa che una serie di polizia, in cui questa squadra di polizia con attori tra l'altro stupendi, bravissimi, uno più bravo dell'altro, cercano di combattere le organizzazioni criminali, cercando di scovare, di indagare, attraverso i loro studi, con i led, insomma, di indagare al massimo, e di scovare queste organizzazioni criminali per sparare o mettere in carcere appunto i criminali. Una serie bellissima, molto particolare, fa già da diversi anni su Rai 2. Sta andando in replica la terza stagione, pomeriggio alle 18.50. La quarta sarà in prima visione al sabato in autunno. È una serie che mi sta piacendo tantissimo, la seguirò sempre, anche per le prossime stagioni, come anche le altre che vi ho detto e altre che la Rai, insomma, ha previsto per l'autunno, sia italiane che americane. Ma in questo ve ne ho parlato in un altro video, se ve lo siete persi andatevelo a vedere, delle serie che la Rai manderà in autunno, in prima serata, serie fiction, insomma, italiane e americane. Comunque SWAT ve la straconsiglio, alle 18.50 la replica della terza stagione per chi non l'ha vista come me, in attesa della quarta in autunno, in prima serata, al sabato. Dalle 18.50 alle 19.40, da lunedì a venerdì su Rai 2. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, eh, non mancate, ciao!